Ciao a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara e benvenuti in questo nuovo video, in questa nuova recensione Oggi volevo vedere con voi questo Batman Bruce Wayne Direttamente dalla linea DC Multiverse prodotta da McFarlane Toys Quindi volto scoperto di Christian Bale da Dark Knight Ecco qui la confezione, direi di non perdere l'altro tempo Ovviamente come sempre se volete acquistare questo, tant'altro action figure trovate disponibile sul mio sito Arash Shop Nel link qui sotto in descrizione, ma andiamola a vedere fuori dalla confezione Ed eccolo qua ragazzi, con tutti i suoi accessori Come al solito è dotato di basetta nera, la solita carta qui nella confezione Andiamo a vedere gli accessori che sono questo ragazzi Eccolo qua, molto morbido devo dire, un po' troppo anche Però comunque resta nella posizione, è ben fatto, devo dire in questa parte dorata Eccolo qui, peccato che non si allunghi e si accorci, è semplicemente così Poi abbiamo questo backpack che adesso andremo a montare sulla figure Questo è lo Skydive Batman E poi abbiamo questo ragazzi, un pezzo di esplosivo al plastico con tanto di orario sopra Comunque ben fatto Vediamo la figure nel dettaglio ragazzi Beh il viso di Christian Bale, devo dire che è veramente ben realizzato ragazzi La somiglianza c'è tutta, poi abbiamo vedete anche le sfumature sui capelli Devo dire che hanno fatto un buon lavoro E qui sul retro appunto c'è il foro per poter inserire questo backpack Eccolo qua, quindi c'è questo Batman particolare senza la maschera con il viso di Bruce Wayne Per il resto ragazzi i dettagli sono riportati molto fedelmente con quella tuta Vedete è su questo grigio con alcune parti nere Sulla scia del Batman che chiaramente abbiamo visto nel set che conteneva tutti i Batman cinematografici di qualche tempo fa La cintura dorata ben fatta e tutto il resto dei dettagli ben fatto Peccato ragazzi che McFarlane Toys ancora non ci dia peg coperti Ormai è diventato lo standard L'unica a non esserci arrivata è appunto McFarlane Toys Comunque vediamo le articolazioni ragazzi Testa molto ben articolata devo dire in tutto e per tutto L'apertura del braccio ottima ma abbiamo già visto che queste articolazioni sono ottime ragazzi Sono veramente ottime Rotazione, piegamento, piegamento, rotazione Mezzo busto anche ben articolato anche lateralmente Rotazione anche alla vita un ulteriore Guardate che spettacolo di movimento Forse l'hanno migliorato ulteriormente Abbiamo le gambe in avanti, le gambe all'indietro un po' limitate Però niente di troppo problematico L'apertura laterale praticamente massima Rotazione qui nascosta Piegamento doppio al ginocchio Piegamento del piede in giù, piegamento del piede in su Ottima articolazione questa C'è anche rotazione qui alla caviglia Vedete hanno continuato comunque le pieghe del tessuto E piegamento della punta del piede Cosa che Mezco per esempio ancora non include invece McFarlane Toys Misurazione dell'altezza ovviamente più alta delle normali figure in scala 6 pollici Perché questa è una figure in scala 7 pollici Quindi 17 centimetri e mezzo Eccola qua con foto con una Marvel Legends Con una Mayfax, Sage Figures e Monenza Spider nel Marvel Select Che dire ragazzi eccolo qui sulla basetta rotante Beh devo dire una buona figura in complesso Articolazioni ben fatte, estetica comunque ci sta E accessori un po' poveri in realtà potevano mettere qualcosina in più Magari un mantello, la possibilità di cambiare la testa Insomma qualcosina in più ragazzi Allora voto agli accessori 6 Per quanto riguarda invece le articolazioni Beh sono delle ottime articolazioni in realtà Peccato per i peg, do un 8 e mezzo Per quanto riguarda l'estetica ben fatto devo dire La tuta ben fatta, il viso molto somigliante, dettagli ben riportati Secondo me un 8 pieno se lo merita tutto E quindi questa ragazzi è una figure nel complesso da 7 Secondo me è una buona figure, un'ottima figure Grandissima somiglianza però potevano includere qualcosina in più Per alzare il voto magari Soprattutto ragazzi il Mac 40 sarebbe ora di togliere questi peg visibili Perché ormai ripeto siete gli unici ad averli ancora Detto questo ragazzi vattene di sapere cosa ne pensate Un commento qui sotto, il like al video è sempre ritissimo Così come anche la condivisione Se volete ci vediamo in live oggi alle 15 Trovate sempre il link qui sotto in descrizione Per acquistare tante altre action figure Il ARA Shop nel link sempre qui sotto in descrizione Ciao da ARA Da Batman, Christian Bale e collezionate sempre Grazie a tutti